Con oltre 450 pugli e piccoli selvatici recuperati, il 2022 è stato un anno particolarmente impegnativo per i volontari di Ampana Lucca. L'associazione ha reso noto il bilancio degli interventi sul territorio durante l'anno passato. Situazione stabile a Porcari, con 32 animali recuperati, in lieve aumento a Capannori, 137 recuperi, mentre si segnala in particolare il boom di richieste nell'area del comune di Lucca, che è passata da 82 a 282 animali recuperati. La cittadinanza ogni anno che passa si scopre sempre più, quindi sanno di questa attività che è cominciata un po' in sordina qualche anno fa, però ora è arrivata a dei livelli molto impegnativi anche per noi dell'associazione. Sono animali che possono andare nei periodi rossi, possono andare da uno al giorno fino a una quindicina al giorno, quindi non sappiamo mai quante saranno le chiamate. Comunque gli animali vengono portati al cruma di Livorno, che è il centro recupero indicato dalla regione, a un centro recupero della Lipu, dove vengono curati, assistiti e si sono a svezzare, svezzati e rimessi poi in libertà successivamente. Il vicepresidente di Ampana Lucca, Nicola Fantozzi, segnala alcune criticità emerse durante i servizi, come il problema dei piccioni e adulti feriti, che non possono essere soccorsi, o le richieste di intervento che giungono da comuni non convenzionati, nei quali l'associazione non può operare. Negli ultimi due anni, con l'incremento che c'è stato del costo del gasolio e dell'autostrada, per noi ci sono delle spese che ormai sono insostenibili, ma speriamo che qualche associazione, qualche ditta ci possa dare una mano per riuscire a coprire quelle che sono anche le spese che maggiormente sosteniamo. Grazie a tutti.